Cari amici, eccoci al nostro appuntamento settimanale. Partiamo con una buona notizia per il nostro paese e per le famiglie dei pescatori di Mazzara del Vallo. Alcune decine di nostri concittadini sono stati liberati, erano prigionieri in Libia. Dopo tre mesi, credo, questa è una bella notizia. Probabilmente ci si poteva risparmiare una sceneggiata che è stata fatta dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli Esteri in Libia. Non c'era nessun motivo per festeggiare assolutamente niente. Siamo felici del ritorno in Italia dei nostri concittadini, ma siamo indignati per il fatto che siano stati tenuti prigionieri per tre mesi nell'indifferenza generale. Siamo alle prese ovviamente con i temi che riguardano il Covid, le misure da prendere per il periodo festivo e ancora una volta il Governo è alle prese con una scelta di fondo sulla linea da seguire, se la linea della prevenzione o la linea della rincorsa al contagio. La linea della prevenzione ci consentirebbe di avere misure semplici, chiare, tempestive e controllabili. Misure chiare, misure tempestive, cioè le misure vanno prese per tempo, non all'ultima ora, mentre vi sto parlando ancora non abbiamo decisioni prese dal Governo. Misure controllabili. Ovviamente la linea della prevenzione presuppone poi che ci siano da parte del Governo nazionale dei ristori, dei rimborsi alle categorie che subiscono danno, anche queste misure semplici e tempestive. Cioè le misure di rigore sono sostenibili se vengono accompagnate dal risarcimento di un danno economico che io subisco, ma il risarcimento deve avvenire nel giro i pochi giorni, non dopo mesi e mesi. La seconda linea che si può seguire è quella delle mezze misure. Le mezze misure sono un tentativo per cercare di non scontentare qui e lì, ma hanno un doppio risultato, che scontentano tutti quanti e soprattutto che allungano i tempi di fuoriuscita dall'epidemia Covid. Credo che il Governo si stia preparando ad adottare ancora una volta questa seconda linea, quella delle mezze misure. Abbiamo assistito in queste ore, in questi giorni, a un dibattito che dal mio punto di vista è francamente allucinante. le deroghe. Quando si prende una misura di carattere generale, se questa misura deve avere efficacia, non deve avere 300 deroghe. Prendiamo una misura, però vengono esclusi i cittadini che appartengono alla categoria A, B, C, D. Queste sono prese in giro. facciamo una deroga per quanto riguarda i comuni sotto i 5.000 abitanti, poi facciamo una deroga per la festa, il pranzo di Natale. Possiamo ospitare due familiari non residenti. Quando diciamo queste cose c'è veramente da indignarsi. Chi è che controlla se arrivano poi due familiari non residenti o tre o quattro o cinque? Poi c'è un dibattito sulla umanità e sulla generosità. A Natale, a Capodanno, dobbiamo ospitare i vecchi abbandonati. Magari i vecchi sono abbandonati per 11 mesi e mezzo l'anno, se ne infischiano poi adesso si ricordano che ci sono i vecchi. Quando si fanno questi ragionamenti non si dà prova di generosità e di umanità. È esattamente il contrario. Si dà prova di irresponsabilità. Perché se io in nome dell'umanità faccio il cenone di Natale con 20 familiari non conviventi, non sono stato più generoso e umano. Sono stato più irresponsabile. Perché magari i miei genitori, i miei nonni, i miei figli, vengono invitati ad un pranzo rispetto al quale dopo due settimane probabilmente andranno in terapia intensiva. È chiaro che farebbe piacere a tutti quanti noi per ragioni umane comprensibili stare tutti quanti raccolti in famiglia. Ma dobbiamo dire in maniera brutalmente chiara che questo momento di eventuale raccolta di tutti in famiglia significa aprire le porte di nuovo per le terapie intensive e per la morte per tante persone anziane. Moltiplicate per queste cose per milioni di famiglie e vi rendete conto di quello che può succedere. Altro che umanità e generosità. Mezze misure per quanto riguarda le scuole. Abbiamo ormai l'abitudine in Italia a discutere della scuola a prescindere dai dati epidemiologici. Le scuole si riaprono il 7. Qualcuno è in grado di dire qual è la situazione che avremo il 7 gennaio. Qualcuno è in grado di garantirci che avremo la copertura degli organici, che avremo i docenti necessari, gli insegnanti di sostegno, che avremo in qualche modo migliorato la situazione del trasporto. Però continuiamo a ripetere la litania in base alla quale prima si fissa la data di apertura, poi si fa la verifica della situazione epidemiologica, con il risultato che nove volte su dieci le previsioni poi vengono smentite dalla realtà. Noi in Campania seguiremo la nostra linea. Massimo rigore per poter aprire tutti, ma per sempre. Non fare finta di aprire per tre giorni e poi prolungare l'epidemia per altri tre mesi. Non ci sarà la mobilità per i comuni sotto i 5.000 abitanti. Faremo un'ordinanza che lo vieta. Faremo, credo, anche questo fine settimana qualche ordinanza per tentare di bloccare la vendita di alcolici e per bloccare il consumo di alcolici, ma di qualunque altro genere di consumo, in pubblico. Quindi cercheremo di controllare quelli che arrivano dal nord, nei treni. Siamo anche qui l'unica regione che già da una settimana ha deciso di fare, perlomeno nelle principali stazioni ferroviarie e negli aeroporti, dei controlli almeno della temperatura corporea, per cercare di filtrare, per quanto possibile, contagi di importazione. È del tutto evidente che in questo quadro è decisivo il senso di responsabilità di ogni cittadino. Parliamoci chiaro, questa è la misura decisiva per fare fronte al Covid, la responsabilità di ognuno di noi. La situazione oggi in Campania è quella che credo ormai conosciate tutti quanti. la Campania ancora una volta, se Dio vuole, si è salvata. Abbiamo retto l'onda di contagio fine settembre e inizio ottobre, quando abbiamo rimescolato le carte della società italiana, abbiamo retto, con fatica, ma abbiamo retto, abbiamo preso misure di guerra per quanto riguarda il nostro sistema sanitario. Abbiamo retto. Oggi la Campania è scomparsa dai titoloni di giornali. Ci salviamo per due o tre ragioni, non per le zone e le controzone. La prima, perché abbiamo fatto filtro ad agosto per chi rientrava in Campania dalle ferie e dall'estero. secondo, la ragione principale, perché abbiamo chiuso le scuole un mese prima che a livello nazionale. Terzo, perché abbiamo preso misure di contenimento prima degli altri, dall'uso obbligatorio della mascherina alla chiusura alle 10 di sera delle attività, scontando qualche attacco, qualche incomprensione, qualche momento di guerriglia, queste misure ci hanno consentito di salvarci ad oggi. Vi devo anche dire che parte del miracolo Campania è rappresentato dal fatto che, ho detto altre volte e ripeto, abbiamo combattuto a mani nude. Sapete quanti sono, dopo tutte le chiacchiere di questi mesi, i medici arrivati in Campania? 23. Sapete quanti sono gli anestesisti che hanno preso servizio in Campania, dopo mesi di chiacchiere propagandistiche, di migliaia di disponibilità nei bandi della protezione civile? Un anestesista ha preso servizio in Campania, uno nell'ambito dei 23 medici arrivati. Quello che abbiamo fatto, ed è un miracolo, lo abbiamo fatto con le nostre forze e grazie ad un impegno straordinario di tutto il personale sanitario della nostra regione, grazie agli impegni di medici, infermieri, tecnici, amministrativi, protezione civile, quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto con le nostre mani e avendo avuto il coraggio di decidere cose chiare e prima degli altri. In questo momento abbiamo un tasso di positivi in Campania che è del 6,6%. Abbiamo un numero di ricoverati in terapia intensiva che è di 119 su 640 posti di terapia intensiva disponibili. Abbiamo nelle terapie intensive a fronte dei 119 ricoveri che abbiamo in Campania, 611 in Lombardia, 352 nel Veneto, il triplo della Campania in una regione che ha un milione di abitanti meno della Campania. 240 terapia intensive in Piemonte, 206 in Emilia Romagna, un milione e mezzo di abitanti meno della Campania, 311 terapie intensive nel Lazio, popolazione identica alla Campania. Noi 119 e da molti giorni ormai non registriamo nessun ricovero in terapia intensiva in Campania. Avete visto che oggi abbiamo una situazione drammatica per il Veneto, a conferma di quanta cialtroneria ci sia nel meccanismo delle zone gialle, rosse, il Veneto. È da sempre zona gialla. Oggi ha il tripolo delle terapie intensive occupate della Campania. Voglio inviare un augurio ai nostri concittadini del Veneto che stanno pagando sulla propria pelle il propagandismo e le finzioni del Governo nazionale e non solo del Governo nazionale. Auguri ai nostri concittadini di uscire presto da una situazione che per tanti versi è drammatica. Però sono in zona gialla. Allora di fronte a questi dati si va esaurendo, anzi si è esaurita e si è conclusa nel ridicolo la campagna di sciacallaggio che hanno tentato di mettere in piedi per due mesi. a danno della Campania e di Napoli. Nel ridicolo. I dati sono questi. E confermano che la Campania è una delle regioni, forse quella che ha retto meglio di tutte in relazione alla popolazione e alla condizione demografica che abbiamo in Campania. Rimaniamo la regione che ha il tasso minore di ricovero in terapia intensiva. Rimaniamo la regione che non ha mandato nessun paziente nelle palestre, nei palazzetti dello sport, nelle sagrestie, sui materassini messi per terra, pure in un contesto difficile. Rimaniamo la regione che ha il tasso di mortalità più basso d'Italia in relazione alla popolazione. E dunque la campagna di sciacallaggio si è conclusa nel ridicolo come era ampiamente prevedibile. Ieri ci è stato comunicato, ma noi lo sapevamo già da prima, che non c'era nessuna ragione per commissariare l'Asla Napoli 1 per infiltrazione camorristica, niente di meno. Ho chiesto io da due anni l'istituzione di un posto di polizia che non hanno istituito all'ospedale San Giovanni Bosco. E' finita un'altra occasione di sciacallaggio. Il Ministero ci ha comunicato che il lavoro va avanti tranquillamente. Abbiamo ripreso in parte le attività ordinarie, non abbiamo mai interrotto le attività per malattie gravi, pazienti oncologici sono stati seguiti, operati, abbiamo qualche notizia che conferma le nostre eccellenze. Il professore Tortoriello della Napoli 1, dell'ospedale del mare, è diventato presidente nazionale degli Otorino Laringoiatri d'Italia. Credo che non ci fosse un presidente del sud della Campania da decenni è un'altra buona notizia che conferma le tante eccellenze che abbiamo nella nostra sanità. Oggi è aperta e finisco sul tema sanità è aperta una riflessione sulle vaccinazioni anti-Covid. Anche qui un cristiano normale si aspetterebbe che la distribuzione dei vaccini avvenisse in percentuale rispetto alla popolazione delle diverse regioni. Si decide di inviare ad ogni regione il il 10% di copertura rispetto alla popolazione. Stranamente neanche in questo caso è così. Per cui apprendiamo di una distribuzione dei vaccini non proporzionata alla popolazione delle diverse regioni ma avvenuta sulla base di criteri misteriosi. Ci siamo abituati. noi andremo avanti sulla base della nostra programmazione e abbiamo deciso di non rigonfiare o falsificare i dati del fabbisogno. Allora i tempi di consegna non sono ancora definiti arrivano anche qui comunicazioni a volte fuorvianti fino a una settimana fa ci si diceva che i congelatori poteva distribuirli tranquillamente il commissariato nazionale tre giorni fa abbiamo appreso che in realtà i congelatori non ci sono a Roma e quindi ce la dobbiamo vedere per i fatti nostri. Eravamo già preparati quindi ce la stiamo vedendo per i fatti nostri e abbiamo quasi completato la fornitura di congelatori per il 95% delle nostre esigenze. Ci dicono che si farà una giornata unica europea per le vaccinazioni ovviamente una giornata simbolica il 27 dicembre noi cercheremo di avere delle vaccinazioni simboliche in tutte le province della Campania o nelle principali in realtà anche il 27 dicembre se ci fanno la grazia di mandarci i vaccini ovviamente se no. Ne approfitto per dire che abbiamo completato anche qui al 99% la fornitura di vaccini anti-influenzali mi hanno detto che vi sono ancora due o tre distretti in tutta la regione in cui non sono arrivati i vaccini necessari arriva il giorno 20 un'ultima fornitura di 60.000 vaccini anti-influenzali e quindi copriremo al 100% quel fabbisogno voglio dirvi che la vaccinazione anti-covid non sarà come dire un compito banale è un po' diverso dalla vaccinazione anti-influenzale occorre preparare anche gli spazi adatti bisogna registrare le generalità di quelli che sono pronti a farsi il vaccino poi procedere con la somministrazione del vaccino poi bisogna avere delle sale per aspettare qualche minuto per verificare che non ci siano reazioni allergiche per fare un percorso di sicurezza e di tranquillità però bisogna prepararsi bisogna preparare le unità mediche infermieristiche necessarie per erogare il vaccino nei 25 26 punti di erogazione che abbiamo deciso di mettere in piedi in tutta la regione il giorno 12 gennaio abbiamo fissato una sorta di esercitazione generale in tutta la campagna il dal 12 mattina 12 gennaio dovrà essere pronto tutto gli spazi i medici la task force che seguirà le vaccinazioni nelle residenze sanitarie assistite la copertura in tutti i territori quindi dalla mattina del 12 gennaio andremo in giro per la campagna per verificare che tutto sia in ordine dobbiamo lavorare alla tedesca deve essere un'operazione quasi militare dobbiamo essere pronti in tutto i congelatori i medici gli infermieri gli spazi per la registrazione per la somministrazione per l'attesa di qualche minuto il trasporto e l'uso entro le due ore dallo scongelamento dei vaccini deve essere una macchina perfetta stiamo lavorando in queste ore per avere questo risultato nel frattempo ovviamente come vi avevo detto guardiamo al di là dell'epidemia del vaccino guardiamo al lavoro all'economia e ai problemi che mese prima mese dopo si presenteranno alla nostra attenzione poiché sono già presenti all'attenzione delle famiglie del mondo del lavoro delle imprese intanto faremo una battaglia con gli altri colleghi presidenti di regione del sud per avere l'erogazione di fondi europei in maniera corretta cercheremo di mettere in piedi un fronte meridionale per impedire un furto di decine di miliardi di euro a danno del sud la prima ipotesi di distribuzione di queste risorse fatta dal governo è totalmente inaccettabile per quanto riguarda i fondi le risorse a fondo perduto 65 miliardi di euro il governo ipotizza di dare al nord il 66% e al sud il 34% deve essere esattamente il contrario perché questi fondi l'Europa li ha decisi in primo luogo per recuperare il divario di reddito il divario di occupazione fra i diversi territori altro che 66 e 34% si farà 34 al nord e 66 al sud poi vi sono altri 160-70 miliardi di euro sui quali ragionare che riguardano i prestiti non i contributi a fondo perduto ma anche in quel caso sarebbe inaccettabile uno squilibrio come quello che ha proposto il governo ci auguriamo che tutte le forze politiche e parlamentari del sud partecipino al di là delle bandiere di partito ho sempre detto che quando parliamo di risorse per le nostre famiglie e le bandiere di partito non contano nulla si combatte per le nostre comunità sulla base di criteri corretti ragionevoli senza lamentazioni ma anche con la disposizione a combattere per difendere i nostri interessi poi ovviamente stiamo lavorando per quelle che sono le nostre responsabilità continuiamo ad aprire i cantieri abbiamo consegnato un cantiere importante nell'area perivesuviana un'opera che la regione ha finanziato per 10 milioni di euro non è solo la pista ciclabile da San Giuseppe Vesuviano a Torre Annunziata ma è una successione di parchi urbani di riqualificazione urbana che sarà veramente un'opera straordinaria di richiamo anche turistico finanziamo anche un secondo lotto per un intervento analogo da Nola a proseguire a Monte del Vesuvio partono i lavori a Pompei un'altra opera di manutenzione stradale importante in una strada importante di Pompei investiamo altri 6 milioni di euro per rifare la pavimentazione abbiamo consegnato le prime decine dei 260 autobus nuovi che abbiamo acquistato e che consegniamo entro l'anno ad una trentina di aziende di tutta la regione campania a cominciare ovviamente dall'azienda della regione l'Eav ma daremo 40 credo autobus nuovi al CTP l'azienda della provincia di Napoli alla NM della città di Napoli sperando che siano utilizzati avremo una consegna di pullman più stretti che abbiamo messo in produzione per Capri Procida Ischia Sorrento a proposito abbiamo avviato la battaglia a proposito di Procida perché sia Procida capitale europea e la cultura per il prossimo anno avviamo questa battaglia abbiamo preso una misura importante che riguarderà almeno 500 piccole imprese siccome i contributi dello Stato non arrivano e il credito delle banche non arriva perché il meccanismo messo in piedi è infernale si chiedono garanzie contro garanzie bene noi abbiamo deciso di anticipare con un'operazione mista con confidi investiamo noi come regione 4 milioni di euro di anticipare prestiti fino a 35 mila euro per tre mesi in attesa dei prestiti dello Stato o delle banche se arriva in questi tre mesi il prestito richiesto quello che noi concediamo si estingue automaticamente altrimenti il prestito concesso regione con fidi avrà la durata di tre anni a tassi di mercato è un aiuto che cerchiamo di dare a centinaia di piccole attività imprenditoriali commerciali artigianali nella nostra regione abbiamo approvato come sapete una misura a 100 milioni di euro per avviare le progettazioni esecutive per essere poi in grado di utilizzare i fondi europei sia quelli straordinari del recovery fund sia quelli ordinari del POR 2021-2027 proseguono le progettazioni per gli ospedali per l'articolo 20 abbiamo approvato un grande progetto che riguarda la cultura vi saranno ovviamente saranno trasmessi sui siti della regione tutta una serie di spettacoli promossi dalle nostre aziende finanziati dalla regione Napoli Teatro Festival San Carlo Teatro Verdi Film Commission Fondazione Ravello Trianon ci sono scabec decine di eventi che potranno essere seguiti ripeto nei nostri siti sul sito della regione ci si potrà collegare e vedere quale spettacolo quale evento culturale può essere più interessante questo servirà anche ad alleggerire questo periodo di feste che sarà inevitabilmente un periodo completamente diverso dagli anni passati abbiamo approvato in giunta il bilancio di previsione della regione del 2021 andremo in consiglio regionale ci auguriamo di concludere i lavori il giorno 23 garantiremo nel nuovo bilancio le politiche sociali e abbiamo fatto uno sforzo enorme per non aumentare di una virgola i tributi comprendendo che siamo in una situazione maledettamente difficile per le famiglie e per le imprese stiamo camminando ovviamente sul filo del rasoio ma non possiamo fare debiti per stare tranquilli avremmo dovuto ritoccare l'aliquota IRPEF i canoni idrici i canoni per l'edilizia popolare abbiamo deciso facendo uno sforzo enorme di contenimento di non ritoccare di una virgola i tributi in Campania è un miracolo anche questo che abbiamo fatto dal punto di vista del bilancio allora faremo un'altra iniziativa rivolta al mondo del precariato che riguarda la sanità in primo luogo lavoreremo per la stabilizzazione di precari che lavorano da anni ma abbiamo fatto una proposta anche per i lavoratori socialmente utili della regione la proposta al governo è di dare vita come dire ad una lista ad un ruolo speciale per i lavoratori socialmente utili un ruolo speciale a esaurimento finanziato dallo Stato perché sono misure di sostegno sociale che vanno finanziate dal governo italiano non si possono caricare sui bilanci nei territori centinaia di lavoratori socialmente utili quindi noi apriamo questa battaglia abbiamo anche una selezione ma l'obiettivo è quello di un ruolo nazionale unico per gli LSU problema riguarda come ovvio solo le regioni meridionali o al 99% o al 99% le regioni meridionali bene questa è la nostra situazione e queste sono le attività in corso per dare comunque respiro già da oggi all'economia al lavoro nel nostro territorio avremo giorni difficili è chiaro che quest'anno non avremo il Natale non avremo il Capodanno saranno giornate anche di sofferenza seguiamo da questo punto di vista il messaggio del Papa avremo un periodo con meno consumismo ma forse con più raccoglimento nelle famiglie vi prego di essere responsabili so vale per voi come vale per me che la tentazione di avere una cena con tutti i parenti un pranzo di Natale è forte ma dobbiamo essere responsabili dobbiamo capire che per un momento anche di calore familiare e umano comprensibile noi rischiamo se moltiplichiamo per milioni queste situazioni di far ripartire il contagio a metà gennaio di complicare la stagione della vaccinazione anti-covid di complicarla ancora di più con l'anno scolastico che si apre con il picco dell'epidemia influenzale vi prego davvero con tutto il cuore di essere consapevoli di questi problemi e dunque responsabili facciamo sacrificio facciamoci gli auguri a telefono facciamo qualche videochiamata i nostri ragazzi sono bravi a farlo salutiamoci anche da lontano avremo poi tempo per incontrarci e vivere anche in momenti più intensi di calore familiare oggi no oggi manteniamoci con i familiari residenti a vivere questi momenti di festa vi ringrazio sempre per l'aiuto che vorrete darci con la vostra collaborazione e la vostra responsabilità un saluto cordiale ed un abbraccio a tutti voi e alle vostre famiglie che